Buonasera, sono qui nella splendida sala Sibilla Leramo, nell'ancora più splendida biblioteca dell'Oblate, un ex convento e sono qui a parlare con degli amici sindacalisti sul problema della riduzione dell'orario di lavoro per far fronte alla disoccupazione che probabilmente sarà molto più ampia rispetto a quella fino alla conosciuta anche per l'arrivo dell'intelligenza artificiale che decimerà centinaia di migliaia di posti di lavoro di professionisti, di persone che prima dovevano essere al riparo di questi danni che fa il progresso tecnologico.